Carissimi genitori digitali, benvenuti in questa nuova puntata di Essere genitori nell'era digitale. Questa volta partiamo da una domanda che ho letto su Quora, una nuova piattaforma di domande e risposte, un po' tipo i vecchi forum ma strutturati in un altro modo, molto più, potremmo dire, friendly, se vogliamo, più accessibile ai meno tecnici. Ed è una domanda la cui risposta sembra prendere un argomento alla larga ma che in realtà andrà poi a coincidere, lo vedremo tra poco, alla fatidica domanda e risposta appunto qual è il futuro che i nostri ragazzi stanno accingendo a vivere. Oppure, meglio, come dico sempre io, anche i genitori che incontro anche personalmente, qual è il futuro che i nostri ragazzi stanno vivendo, perché lo stanno già vivendo, solo che noi forse ancora non ce ne siamo resi conto. La domanda è, ma PewDiePie sarà famoso fra 30-40 anni? Sarà ancora famoso tra 30-40 anni? E fa Vijay? Allora, partiamo subito dalla base, dall'inizio. Se voi genitori avete figli che si collocano più o meno tra la fine degli elementari e le scuole medie, probabilmente li conoscete già. Sono degli YouTuber, un po' gamers, un po' intrattenitori e così via. Forse li conoscete anche se avete figli che sono più o meno ai primi anni delle superiori, tipo primo o secondo anno delle superiori. Magari attualmente i vostri figli, questi vostri figli appunto a quell'età non li seguono più, seguono altre cose, ma comunque li avranno sicuramente seguiti alle medie. Ora, perché tutto questo? Perché se noi andiamo a vedere, questi YouTuber sono appunto YouTuber come possono essere un ciccio gamer, un joker e tanti altri che nascono e, ahimè, a volte muoiono, muoiono nel senso di canali YouTube, intendo dire. Ma potremmo anche indicare altri account, ad esempio vari Instagrammers, quindi su Instagram, così come adesso che sta veramente crescendo tantissimo TikTok, abbiamo i TikTokers, le TikTokers. E chissà che cosa ci propinerà tra un anno o due questo guizzante mondo digitale. Allora, quindi stavo dicendo, perché un periodo così stretto, una finestra così stretta? Proprio perché questi fenomeni, possiamo definirli così, nascono all'interno di un terreno molto particolare, che è quello dei social media. Un terreno che proprio per definizione, per come sono costruiti, è molto veloce, fluido e sotto certi aspetti, ahimè, per loro, effimero. Quindi, viene logico chiedersi, perché noi vediamo queste persone, questi personaggi, sarebbe meglio, che ad un certo punto, nessuno li conosce, ad un certo punto tutti li scoprono e boom, milioni di visualizzazioni, sembra che sia il fenomeno del momento. Salvo che poi, dopo uno o due anni, non per tutti, fortunatamente per loro, comunque poi, un vuoi perché la gente si sposta di social media, di piattaforma, ad esempio da Instagram a TikTok, per dirne una, vuoi, oppure da Snapchat a Instagram, da Instagram a TikTok, vuoi perché ne nascono molti altri, allora ecco che noi vediamo che, almeno pensiamo di vedere, ci arriviamo tra poco, che questi personaggi, a livello professionale, a livello di social media, hanno una vita veramente stretta, povera. Allora è povera nel senso di tempo, intendo dire. Allora ecco che ci viene, e poi spontaneo, farci questa domanda. Perché? Perché poi noi vediamo i nostri ragazzini, che veramente sbavano per loro, veramente li seguono tutti i giorni, non si perdono un video, vanno a rivedere i video passati, e così via. E soprattutto, per ciò che riguarda il nostro discorso in questa puntata, e soprattutto li imitano, li prendono come punti di riferimento. Allora noi adulti, abituati a un mondo molto più lento, e sottolineo lento, perché questo è il vero fulcro di tutto il nostro discorso, guardiamo queste cose con un po' di preoccupazione, perché pensiamo, ma perché il nostro figlio dovrebbe appunto prendere come esempio un professionista, perché a quei livelli sono professionisti, un professionista, un modello comunque di professionista così effimero, così veloce. Allora ecco che magari noi siamo anche spinti a consigliare a nostro figlio altri modelli, anche a livello professionale. Allora, in realtà qua c'è da vedere un attimino, c'è da considerare la differenza di percezione, e purtroppo, ahimè, anche se in realtà sotto c'è rispetto è anche giustificato, è la differenza di percezione che è proprio un gap generazionale che noto molto forte tra noi, eh io ho 40 anni, il 44, se ne sono quarantenne, vabbè ok, ci ho provato, tra noi quindi, della vecchia guardia potremmo dire, e le nuove generazioni. e l'ho accennato prima, mondo lento, più frenato, più rallentato, forse più riflessivo, nel bene e nel male, versus mondo veloce, frenetico, sembra di stare perennemente in una montagna russa, sulle montagne russe, in un luna park enorme, dove ci sono alti, bassi, dove uno si stufa, cambia giostra, poi ritorna a quella di prima, tutto il giorno così, perché tanto è tutto pagato da un unico biglietto, nel nostro caso la connessione internet, ok sì, poi ci sono i dati, eccetera eccetera, ma per ciò che riguarda il nostro discorso, ci fermiamo qua. Quindi allora, attenzione, perché la vera differenza è questa, ossia, noi siamo abituati anche a un tipo di professionismo, e quindi a un tipo di carriera che si costruisce nel tempo, si fa la solita gavetta, si fanno studi, probabilmente, più o meno lunghi, dipende, chi non studia, comunque fa tanta pratica, perché anche il muratore ultra in gamba, magari a livello di libri, ha studiato poco, perché ha fatto altre scelte, ha compiuto altre scelte di vita a suo tempo, ma per arrivare e diventare veramente bravo come un elettricista, un idraulico, comunque dietro c'è tantissima pratica, quindi comunque pratica barra studio. Comunque, in ogni caso, noi siamo abituati a vedere che ci vuole del tempo e soprattutto dedizione ad un mestiere, ad una professione e solo a quel punto pensiamo di poter diventare un po' come dei modelli per chi arriva. Noi invece vediamo questi personaggi che sono veramente estremamente veloci, boom boom, arrivano, spariscono, si spostano, cambiano così velocemente e rimaniamo perplessi. attenzione però perché questa è solamente la punta dell'iceberg. Se ne andiamo a vedere, è vero che tutti questi personaggi tendenzialmente almeno sono tutti molto giovani, ma per un semplice motivo, perché? Perché? Proprio perché giovani sono sempre stati più avvezzi a questo tipo di discorso, sia le tecnologie, e quindi hanno avuto molta più facilità, proprio pam pam pam, malizia, di entrarci dentro e iniziare a muoversi, non solo semplicemente per mantenere i propri contatti, ma proprio a livello professionale, ossia ci hanno visto, forse a quei tempi in maniera più o meno creativa, ci hanno visto dell'opportunità di business. Mi venne in mente un po' come i nostri DJ, i DJ ai miei tempi, quando ero piccolino io, i DJ non venivano molto considerati, perché, sì, d'accordo, vedevamo questi qua che magari la sera andavano nei locali, eccetera, eccetera, ma tutto sommato molto spesso mi ricordo che io avevo degli amici che stavano comunque tentando, almeno stavano intraprendendo la carriera di DJ e quando qualcuno gli chiedeva ma tu che lavoro fai? Dicevano vai, io faccio il DJ la sera, vado nei locali, bla 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 e poi si rivedevano, si vedevano appunto rivolgere di nuovo una contraddomanda, sì, d'accordo, ma per vivere che lavoro fai? Oppure più direttamente, sì, va bene, ma che lavoro fai? Come per dire, sì, vabbè, lascia perdere questa cosa del DJ, parliamo di lavori seri, qual è il tuo vero lavoro? un amico diceva ma è veramente il mio lavoro è fare il DJ? È vero, adesso guadagno ancora poco ma sono agli inizi, sono giovane, ho appena iniziato. Gli YouTube, gli Instagram, gli TikToker di oggi sono ciò che a nostro tempo erano i DJ, quindi questo è molto, molto importante perché ci inquadra la situazione e ci fa capire la risposta a domande di questo tipo, ossia più di Pi o Favij saranno famosi tra 30 a 40 anni? Ovviamente non lo sappiamo, ma come ad esempio io non posso sapere come andrà la mia carriera, certo me la costruisco, se ho delle basi solide presuppongo che andrà molto avanti, ma chi lo sa magari fra dieci anni avrò cambiato lavoro, magari che ne so ci sarà stato un tracollo, ovviamente spero di no, mi sarò dovuto reinventare, non lo so, è la stessa cosa per gli altri, per questi personaggi qui. Poi potreste dire sì d'accordo ma questi personaggi a differenza tua, Ivan, appunto io sono psicologo, a differenza tua loro si muovono in un ambiente che per definizione, per come è stato costruito è così veloce, verissimo, però attenzione, perché nel rivolgere queste obiezioni noi stiamo considerando solamente la piattaforma in sé, e mi viene in mente ad esempio Aranzulla, una diattriba tra Aranzulla e Chiara Ferragni, ormai un po' di tempo fa da quando sto registrando questo video, o comunque ho questo audio a seconda di come ascolterete o vedrete questa puntata, e dicevo quindi questo Aranzulla che in qualche modo aveva ripreso la Ferragni dicendole tu tradotto, letto tra le righe, interpretazione mia, tu sei destinata a scomparire perché sei su un social media, sei in una casa che non è tua, sei all'interno di un ambiente che è molto fluido, mentre invece io ho un sito, ho un blog e così via, insomma, penso che il blog di Aranzulla prima o poi ci siamo finiti tutti, ogni volta che cercavamo una qualunque come fare per legato a un computer, a un cellulare e così via. Ecco, quindi, attenzione perché Aranzulla non ha tutti i torti perché sappiamo benissimo e i marketer lo conoscono benissimo questo discorso che un sito, un blog di mia proprietà è mio, è casa mia, può essere più o meno bella, può essere più o meno frequentata, ma questo è un altro discorso, di fatto è casa mia. Se io invece ho un account su Instagram, su TikTok, su YouTube o dov'è, sto giocando in casa di altri, quindi il vero padrone non sono io, ma sono gli altri che possono cambiarmi le carte in tavola quando vogliono. Io solitamente quando spiego questi due concetti parlo sempre appunto di casa nostra e di un albergo o di un centro commerciale, ecco, il centro commerciale ha il suo perché, perché io posso metterci lo stand e so che comunque già il centro commerciale in sé tirerà tanta gente per cui potrò giovare di questa cosa, ma devo anche essere sempre consapevole del fatto che comunque il padrone del centro commerciale è un altro e in ogni momento può venirmi a dire guarda tu questo stand che hai davanti proprio all'ingresso non ci piace più qui perché sta arrivando un altro stand e lo metto in fondo e dietro i bagni e a quel punto se voglio rimanere con il centro commerciale devo andare dietro i bagni. Quindi questo è un esempio, questo è verissimo, quindi attenzione Aranzulla da questo punto di vista non ha tutti i torti però attenzione perché dietro questa diatriba e soprattutto dietro questo nostro discorso come ho accennato all'inizio c'è un discorso che va al di là che va oltre che è proprio la differenza di percezioni del futuro ma è anche proprio una differenza dei futuri che ci attendono ossia il futuro dei nostri ragazzi è molto più fluido è molto più è meno denso è molto appunto più liquido quindi vai e viene scorre via poi ritorna e i nostri ragazzi sono pienamente immersi in questo e stanno imparando alla loro età giovanissimi stanno ancora imparando a muoversi all'interno di questo mondo che non è nostro noi sì ci stiamo dentro siamo su Facebook siamo su Instagram magari lo usiamo anche i promotivi professionali ma insomma diciamo che noi abbiamo dovuto un po' impararla questa cosa e i nostri ragazzi invece ci stanno dentro quindi attenzione perché c'è proprio questa differenza tra un mondo appunto più lento e più prevedibile e un mondo più veloce e soprattutto un mondo quello dei nostri ragazzi quindi il futuro che i nostri ragazzi stanno già vivendo ossia un mondo in cui anche il senso stesso di appartenenza cambia completamente perché come dico sempre io lo dico spesso l'ho già detto in altre puntate i nostri ragazzi si stanno abituando perché li stiamo addestrando noi tutto sommato ad un mondo in cui il concetto di proprietà avrà sempre meno senso avrà sempre più senso il concetto di accesso allora ecco che i nostri stessi ragazzi probabilmente faranno anche non dico fatica però saranno molto più a proprio agio ad accettare l'idea di stare su un account social e magari costruirci una carriera magari anche solo per due o tre anni perché poi si cambia ad una carriera quindi all'interno di un ambiente così fluido consapevoli del fatto che i social media le piattaforme in cui saranno magari crollerà magari cambierà magari chiuderà e allora dovranno spostarsi e modificare di conseguenza ma per loro non sarà un problema e per questo a volte io mi chiedo ma tutto questo discorso è più un problema per i nostri figli oppure per noi noi che vediamo appunto questo mondo così veloce sfuggirci dalle nostre mani perché ripeto i nostri ragazzi stanno imparando a viverci nel bene e nel male nel buono e nel brutto e nel cattivo d'accordo però comunque stanno imparando a viverci bene voi che cosa ne pensate scrivetelo nei commenti iscrivetevi nella descrizione trovate anche il mio canale telegram in cui pubblico non solo gli aggiornamenti di queste puntate ma anche variate notizie entrami in contatto e trovate anche i miei indirizzi email nel caso voleste scrivermi direttamente attendo le vostre risposte che servono anche a me poi per capire che cosa vi serve veramente quindi realizzare altri video altri podcast altri articoli e così via noi ci vediamo alla prossima un saluto da Ivan Ferreira